Via, via! Sergente, sono bloccato! Sono bloccato, mi aiuti! Probabilmente a te piace l'esercito, vero? Sergente, bravo, sergente! Fissami nelle palle degli occhi! Ti proteggio! Sì. Tu stai bene! Lo so, amico. Lo so. Lo so! Questo non è l'esercito, sergente. In prima visione assolta, per film cronica, Vittime di guerra, Brian De Palma, Michael G. Fox e Sean Penn e le musiche di Ennio Morricone. Domenica 6 febbraio, 20 e 30, su Rete 4. Le cose semplici hanno più gusto. Provate Knacky, i nuovi wurstel di Bismarra, dal gusto... al dente. Bismarra, il gusto delle cose autentiche. È stata la passione per il tè che ha spinto Sir Thomas Lipton a far rotta per Ceylon alla ricerca dei tè più rari e preziosi. Sir Thomas Lipton aveva, come motto, direttamente dalla piantagione alla teiera. Così, fece navigare i velieri più veloci, perché i suoi tè attraversassero gli oceani senza perdere nulla della loro qualità e della loro fragranza. Ancora oggi, c'è una linea di tè pregiati che testimonia la sua passione. Sir Thomas Lipton, il gentleman del tè. Le opportunità ci sono. Abbiamo già ricoperato un buon 10% di quote. Mi creda, impostando il lavoro diversamente, riduciamo subito le spese di gestione. Rispettare il budget non è impossibile, anche nei momenti difficili. Consulta gli esperti più autorevoli. Colleziona Biblioteca d'impresa, strategia di mercato, organizzazione, finanza. Biblioteca d'impresa, in edicole primi due volumi, contabilità generale e come elaborare una strategia a sole 9.900 lire. De Agostini, Franco Angeli. E adesso yogurt parmalat. Anche tu yogurt parmalat. Sì, è tutto naturale. E senza conservanti. Ai piccoli piace tantissimo. Banana, macedonia, fragola, frutti di bosco. E anche ai cereali. E il tuo marito? Ah, per lui, Kier. Con i due fermenti vivi in più e il massa. Con un prezzo così, yogurt parmalat ci piace ancora di più. Gli yogurt parmalat ti regalano con solo 100 punti felpa sport da Parmalat. È altissima. E' purissima. La montagna sa chi è. Altissima! Levissima! Purissima! Levissima! Altissima, purissima, levissima. Cari mamma e papà, qui dai nonni ci sono le cose più buone del mondo. C'è l'aria più buona, l'acqua più buona e il latte è più latte. Così anche il cioccolato al latte Milka è più buono. E c'è Tender, una merendina fatta con questo cioccolato. Quasi, quasi ve ne mando una. Ma forse vi basta il pensiero. Tender, la merendina più buona del mondo. Da Milka, il lilla che invogna. I detersivi per piatti aggrediscono la pelle? No, sono abbastanza delicati. Ci laverebbe allora il suo bambino? Beh, no. Oggi c'è Dixam Piatti Balsam. Concentrato, cremoso, ma soprattutto delicato sulle mani. Nuovo Dixam Piatti Balsam. La scelta ideale per pelli sensibili e stoviglie brillanti. Incredibile! Allora, ci laverebbe il suo bambino? No, i piatti. Ma è bello sapere che potrei. Dixam Piatti Balsam. Il pulito per pelli sensibili. Chi cerca, trova. Guida TV. Questa settimana in regalo enigmistica settimanale. Guida TV. Solo mille lire. Comprare moneta. Avete capito? Comprare moneta. E queste che sono? Moneta, dottore. Come ha chiesto lei, dottore? Moneta forte. Fregiata. Garantita. E poi sua moglie apprezzerà molto. Sì, moneta. Un valore autentico. Mammina, domani non posso danciare. Non riesco a respirare bene. La mia ballerina è raffreddore, ma la mamma sa cosa ti aiuterà a star meglio. Vix Vaporup, ricordi come fanno bene i suoi vapori? Uno, per aiutare a liberare il naso. Due, per alleviare la tussa. Tre, per dare sollievo alla gola irritata. Così sarei meglio in fretta. E adesso, sogni d'oro ballerina. Sollievo è amore e Vix Vaporub. È un medicinale. Usare con cautela. Nonno, nonno! L'ho smontata la mia piantina! Vedi? La natura cresce grazie al tuo amore. Come nella valle degli orti. Dove uomini come te, ma più esperti, coltivano le verdure con amore. Rispettando la natura. Così crescono sane le patate, i piselli, i borlotti. Ecco perché il nostro minestrone mi piace tanto. Nonno, domani lo portiamo nella valle. Sì, tavola. Minestrone alla valle degli orti. L'amore per la terra dà solo buoni frutti. Una presentazione, calze e collano. Rede, con rede, più donne. Viviamo in una zona sismica, che altro ti posso dire? Perdereste un cliente come me per una faccenda sismica. Ecco che arriva un'altra. Ed è anche piuttosto forte. Un film girato nel 1975 in una delle città maggior rischio sismico della California. Los Angeles. Anche Denise e il suo ragazzo avranno bisogno di aiuto. Allora lei è più importante di me. Per i bellissimi di Rete 4, con Ama Gunner e Charlton Estimo, terremoto. Stasera alle 22.30, su Rete 4. Mi perdoni, la prego. Chi è che sta parlando? Sono io. Gli lo giuro, io non volevo farle alcun male. Io non voglio che le succeda niente di male. Mi perdoni. Mi perdoni, per favore. La supplico. Padre, ho detto. Fuori di qui. Micaela. Domani alle 20.30, su Rete 4. Ma questa scarpa non è curata. Eh, sì. Se le scarpe non sono a posto, si possono perdere delle belle occasioni. Ma da oggi c'è classe. Le spazzole classe. Il lucido classe. Il tanno classe. Non ti prodotti di altre classi. Al vostro supermercato. Clas. Tutto per la cura e la bellezza di tutte le scarpe. Caffè cos'è? Prova lo gusto, lo senti con me. Caffè cos'è? Caffè cos'è? Un buon caffè. Bevi cos'è? Caffè cos'è? Questo è cos'è. Un grande caffè. Con un grande aroma. È il gusto tipico del caffè latino americano. E costa pochissimo. Compra cos'è? Il caffè latino americano. Buono e conveniente. Scopri il mondo di Gulliver. Conosci l'Australia, a bordo degli aerei postali. Tuffati alla scoperta dei tesori sommersi. Cambiar vita si può. In Olanda per viaggiare o per vivere. Ogni mese, Gulliver è in edicola. Pieno di idee. Per me il bagno è un momento di vero relax. Ma sentivo la pelle ogni giorno più secca e irritata. Pensavo di avere un problema di pelle. Invece era un problema di bagnoschiuma. Il pH della pelle è 5.5. Alcuni bagnoschiuma hanno un pH elevato e contengono sostanze aggressive. Questo può inaridire la pelle. Nuovo bagnoschiuma Johnson's pH 5.5 Aiuta a mantenere la pelle sana e vitale. Johnson's pH 5.5 Per una pelle sana e vitale. Amaro Averna. Il gusto pieno della vita. Blonde è lavorato con un metodo naturale. Il vapore tiene la cottura e mantiene intatte tutte le sue qualità naturali. Questo non si vede. Non si vede però... Però si sente. Riso gallo blonde. Bontà che non scuoce. È arrivato Ajax Gel 2 in 1. Con lui ogni passata vale doppio. Una con il detergente e una con la candeggina. Una contro il grasso e una contro i batteri. Nuovo Ajax Gel 2 in 1. Non si vede però... I genesi. Paola ha detto no al colesterolo. Per questo ha scelto il budino Valsoia. Lo squisito d'essere 100% vegetale. In una corretta alimentazione aiuta a proteggere dalle insidie del colesterolo. No al colesterolo. Sì, a Valsoia Primo, non avrai altro dio fuori che me In regalo con noi E.T. l'Extraterrestre Un libro di 148 pagine Il primo della collana I Dieci Comandamenti Noi, ogni giovedì in edicola a 2000 lire Fattoria Scaldasole Lo yogurt che puoi mangiare con la forchetta Yogurt Fattoria Scaldasole Di latte dell'agricoltura biologica Di buono in meglio Via, via! Sergente, sono bloccato! Sono bloccato, mi aiuti! Probabilmente a te piace l'esercito, vero? Sergente, no, sergente! Fissami nelle palle degli occhi, ti proteggio! Sì Tu stai bene! Lo so, amico Lo so Lo so Questo non è l'esercito, sergente In prima visione assolta, per fin cronica Vittime di guerra Brian De Palma Michael J. Fox E Sean Bell E le musiche di Ennio Morricone Domenica 6 febbraio, 20 e 3 Su rete 4 Una presentazione Ambipour Parfum Il primo vero profumo per la casa Ricordate Don Camillo? Ricordate Fernandello e Cino Cervi? Quante ne hanno passate insieme Ricordate quando il battagliero parroco fu mandato via da Brescello? Che malinconia! O quando Peppone fu aletto deputato? Che lotta con l'amico nemico di un tempo Rizuma bundorum Imbuccan pretorum Buongiorno regalati Salute fronte della cultura Ma non preoccupatevi Le avventure di Don Camillo e Peppone non finiscono qui Li aspetta un confronto durissimo Ragazzi! Gliela vogliamo togliere la zona che ha preso? I giovani d'oggi Mo sta a vedere che dovrò lasciare la parrocchia tra i due carabinieri Ma mica male per il paese Don Camillo e i giovani d'oggi Domenica alle 20 e 30 Su Rete 4 Cari mamma e papà Qui dai nonni ci sono le cose più buone del mondo C'è l'aria più buona L'acqua più buona E il latte è più latte Così anche il cioccolato al latte Milka è più buono E c'è Tender Una merendina fatta con questo cioccolato Quasi quasi ve ne mando una Ma forse vi basta il pensiero Tender La merendina più buona del mondo Da Milka Il lilla che imboglia È arrivato Ajax Gel 2 in 1 Con lui ogni passata vale doppio Una con il detergente E una con la tendeggina Una contro lo sporco E una contro i batteri Nuovo Ajax Gel 2 in 1 Mi creda Impostando il lavoro diversamente Riduciamo subito le spese di gestione Rispettare il budget Non è possibile Anche nei momenti difficili Consulta gli esperti più autorevoli Colleziona Biblioteca d'impresa Strategia di mercato Organizzazione Finanza Biblioteca d'impresa In edicole primi due volumi Contabilità generale E come elaborare una strategia A sole 9.900 lire De Agostini Franco Angeli Nel secolo scorso Agnesi sfidava i mari Per importare il leggendario Grano duro dell'Ucraina Oggi Agnesi Continua a cercare Il grano migliore In ogni parte del mondo Per questo Puoi contare ogni giorno Su una pasta di qualità Straordinaria Agnesi La qualità comincia dal grano Da 170 anni In the way Sapete come mi hanno convinta A fare pubblicità ai nuovi Silhouette Ultra? Facendomeli provare E ho scoperto che sono grandiosi Perché sono Più sottili Silhouette Ultra È molto più sottile Ma protegge meglio Di un assorbente tradizionale Perché il suo esclusivo materiale Assorbe e diffonde Il liquido in lunghezza E la superficie protettiva di Silhouette Rimane più asciutta Vedete? Provategli anche voi E anche voi farete pubblicità Silhouette Ultra Silhouette Protezione superiore Bianco Brillante Dolce Leggero No, non è zucchero È vantaggio Vantaggio Quattro volte meno calorie Dello zucchero Su dolce e bevande Bio spray lo scioglimacchia Usato prima di lavare Elimina qualsiasi macchia Per questo Molte donne lo preferiscono Spaghetti Bio spray lo scioglimacchia Bio spray lo scioglimacchia Pango Show me now Bio spray lo scioglimacchia Elimina Bio spray lo scioglimacchia Trasforma la macchia In un sorriso Coccolino protezione e cura Da oggi nella ricarica da diluire Presente? Dopo tante sofferenze Riusciranno Milagros e Catrian A coronare il loro sogno d'amore Quale tempesta scatenerà Nel cuore di Maria Ma scoperta di una strana coincidenza Nella data di nascita di Lucia Miss Parker Rinaldo E i loro compagni Quale tremenda prova Dovranno ancora affrontare Milagros Lunedì Alle 20 e 30 Su Rete 4 Crema Glissolid Specialista delle mani Presenta Il ritorno di Colombo Ho appena vinto 30 milioni di dollari alla lotteria Facciamo due passi Fred L'unica cosa che so È che non ho raccontato niente a nessuno Bravo Fred Questa è stata un'ottima mossa Credo che sia stato omicino Omicidio Omicidio L'orologio di suo nipote Non è autentico Per quale motivo Lo teneva ugualmente al polso Nella vasca da bagno Ho capito Ho capito tutto Sono pronto anch'io Su forza Sorridete Misteriose impronte digitali Martedì Alle 20 e 30 Su Rete Parma Quando la pasta è buitoni Tiene sempre la cottura Buitoni La pasta viva A scuola Non tutte le merende sono indicate A volte sporcano E non è detto che nutrano abbastanza Altre Vengono lasciate a metà Quelle pesanti poi Rendono pesante La ripresa della lezione Meglio una merenda nutriente Ma leggera Kinder Brioss Ricorda le cose semplici Che fai tu mamma È leggera Lievitata naturalmente Senza fretta E nutre con le proteine del latte Kinder Brioss È semplice Semplice di natura È arrivato Ajax Gel Due in uno Con lui ogni passata vale doppio Una con il detergente E una con la tendeggina Una contro lo sporco E una contro i batteri Nuovo Ajax Gel Due in uno Indossi Igiene sì Airbag Doppio airbag ABS Scocca rinforzata Passat nuova Vita nuova Devi venire alla standa Alla standa E perché? Ti regalano 10.000 lire Non è possibile Sì invece Ogni 50.000 lire Te ne danno 10.000 In buoni acquisto Beh ma allora Questo è il treno da non perdere Dai domani ci andiamo insieme Morbido Nuovo eh? No È lavato con perlana Lo prendo io Morbido È nuovo? No Lavato con perlana Lo provo Morbido È nuovo? No Lavato con perlana Lo provo Morbido Nuovo Lavato con perlana Passaparola Cecilia è una bambina così felice Anche perché la sua pelle è bella asciutta Per questo con Cecilia io uso Pampers Sono tanti anni che faccio l'insegnante di esilo nido E ho imparato quanto sia importante la pelle asciutta E io preferisco Pampers Perché lascia il sederino dei miei bambini asciutto e morbido Quando per Cecilia non ho potuto usare Pampers Perché ero rimasta senza A volte mi è capitato quando si svegliava Di trovare la sua pelle un po' umida Pampers invece con il suo sigillo a pipì Imprigiona il bagnato per ore Così la pelle resta asciutta e il bagnato non torna più Neanche se lo strizzi Per la mia Cecilia uso Pampers Così sin dal mattino è più felice Pampers Bambini più asciutti Bambini più felici Quando sei raffreddato Rinazzina spray nasale Libera il tuo naso Evitare l'uso prolungato Dopo lo shampoo avevo la cute secca e i capelli inariditi Pensavo di avere un problema di cute E invece era un problema di shampoo Il pH della cute è 5.5 Alcuni shampoo hanno un pH elevato e contengono sostanze aggressive Questo può inaridire la cute Nuovo shampoo Johnson's pH 5.5 Aiuta a mantenere la cute e i capelli sani e vitali Johnson's pH 5.5 Per una pelle sana e vitale Chi cerca trova Guida TV Questa settimana in regalo enigmistica settimanale Guida TV Solo mille lire Chrysler Voyager Un simbolo del mondo moderno e della qualità della vita ad oggi Presenta Pietro Lunghi Un grande pittore che ha rappresentato la qualità della vita nel 700 veneziano A Venezia al Museo Correre dal 4 dicembre con Chrysler Devo andare in Polonia ma è un viaggio di solo qualche giorno Ma non c'è rimedio, non c'è più niente che uno possa fare Dal primo momento che ti ho vista non ho fatto che adorarti Mi sono trovato in molte battaglie Ma per la prima volta io sento che potrei morire domani Audrey Hepburn Mel Ferrelli Harry Fonda Anita Eckberg Vittorio Gassman Su Rete 4 Colosol tratto da un romanzo di Tolstoi Guerra e pace Mercoledì alle 20.30 Su Rete 4 Lino Banfi Renzo Montagnani Johnny Dorelli Occhio malocchio Prezzemola e finocchio Io ti odio a te, hai capito? Ho un fatto di pelle In senso epitermico? No, di pelle, di rottura di pelle Conoce il cinema giapponese? Toshiro mi fuma Ma come sei maschio? Ah, questo è il corno della caccia alla volta Ma lei morde! Chi va ad aprire? Chi va ad aprire? Chi va ad aprire? Vado io! Occhio malocchio Prezzemola e finocchio Venerdì alle 20.30 Su Rete 4 Dal 31 gennaio Tutti possono diventare azionisti dell'Imi Dal 31 gennaio L'Imi, il Ponte Può essere utile per il vostro risparmio Informatevi presso la vostra banca Imi, insieme, si cresce Prima della visione Leggere il prospetto informativo Anitra WC All'attacco dello sporco Con la sua nuova formula I baragli dei nemici dell'igiene Anche sotto il bordo E nel water Trionfa l'igiene Anitra WC L'eroe dell'igiene Ora in tre varianti Se tu guardi la grafica di certe cortecce Di certe foglie E straordinaria Hai spazi infiniti per prendere ispirazione Partiamo proprio dal filo greggio Nello spirito dell'uomo Di truccarsi Di abbigliarsi Di darsi risalto Vado in giro per il mondo E mi sento tranquillo Con questa carta American Express Perché vedo che dovunque Accettata in modo gradito Si dà senz'altro Un senso di libertà American Express Benvenuta dove la gente Ha il senso dello stile I'm just a gigolo Addio vecchia station wagon Nasce Citroën ZX Brake La station wagon grande Ma non ingombrante Perché tutto lo spazio che serve È stato messo dentro Nuova Citroën ZX Brake La station wagon Compatta Vieni a provarla anche sabato 29 gennaio Buongiorno 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 Vorremmo vedere le carti Oh, oui, oui, oui Il servizio più bello Oh, oui, 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 oui Voilà Porcellana finissima Provence en fleur Il decoro provenzale Lo voglio Ma non Non lo puoi comprare No No Solo invernissi Lo puoi regalare Solo con invernizi Puoi avere in regalo I piatti Provence en fleur E tutta la bontà leggera Di crescenza light Ah, invernissi Per una giornata così intensa La carica non basta mai Allora Pocket Coffee La carica del caffè Più l'energia del cioccolato Pocket Coffee Ferrero It's fantasy Cantare It's fantasy Nonno, nonno L'ha smontata la mia piantina Vedi? La natura cresce grazie al tuo amore Come nella valle degli orti Dove uomini come te Ma più esperti Coltivano le verdure con amore Rispettando la natura Così crescono sane le patate I piselli I borlotti Ecco perché il nostro minestrone Mi piace tanto Nonno Domani lo portiamo nella valle? Si Tavola Minestrone alla valle degli orti L'amore per la terra Da solo buoni frutti Senzei Onegaishimasu Tesu no junbi dekimashita Yo koso I pon tameste No eh Lo sapevo io Non ci dovevo venire No no Aspetta Vediamo Se ti offre il caffè Sei dei nostri Bravo Sei caduto bene E ora ragazzi Gli offriamo un caffè All'italiano Però eh Domani cominciamo gli allenamenti Ci voleva proprio sto caffè È Lavazza Lo esportano anche in Brasile No eh Lavazza Perché il caffè è un piacere Stirello Micromax La tecnologia del vapore Per stirare meglio Stirello ha il super vapore La regolazione della temperatura E del vapore Il tasto spray La piastra inox Il serbatoio estraibile Così comodo da riempire Stirello Micromax Tutto quello che i ferri da stiro Dovrebbero avere Agnesi La qualità comincia dal grano Da 170 anni Profumoso? No Odoroso Strabiglioso Lucicoso Belloso Frescoloso Margheritoso Fabuloso Fabuloso Il detergente Profumante Pulitoso Forza Alziamoci Il futuro è aperto Entriamoci E le tue mani E le tue mani Unite alle mie Le energie Per sentirci Più grandi Grandi Forza Forza Italia Mia E siamo in tanti A crederci Nella tua storia Un'altra storia c'è La scriveremo La scriveremo Noi Con te Per forza Italia E il tempo di credere Dai forza Italia Che siamo tantissimi E abbiamo tutti Un fuoco dentro il cuore Un cuore grande Un cuore grande Sincero E libero Batte forte Per te Scendi in campo Anche nella tua città Dai vita ad un club Forza Italia Forza Italia Con noi Per dare forza All'Italia Una trappola d'acciaio Dalla quale Non si può fuggire Darmi i miei 5 milioni di dollari 5 milioni Tua moglie Ha una spada Di Damocle Sospesa sulla testa Una spietata Caccia all'uomo La posta in gioco La vita Da qui non ve ne andrete mai Avvertilo Che stiamo andando Dal via Michael Paré Trappola d'acciaio Domani sera Alle 20 e 30 Su Italia 1 Orologi Vetta Eleganza Tradizione E precisione L'ora esatta Vi offerta da Vetta Il cuore del tempo